... ... ... ... ... ... devi piegare le gambe Filippo nello squat ma devi piegarle non devi andare avanti con le ginocchia piegare le gambe ma che è quella roba? ... può Strategy devi pruare gli squat vedi l'�� riuscì 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 ovviamente domi wast devono riuscì riuscì non è Via! Ci mettete un'ora per dieci squat ragazzi Grazie Via! E' bravo Felipe perchè la barba sempre parte in realtà Guardate venite Felipe e corre, fa dieci squat e si sdraia Ma cazzo devo dare a forno le proteine porco diaz Ma che cazzo è la roba? Porta puttana! Via! Cazzo! Qualcuno? Non neanche due, no? Sarebbe scorretto Invece sicuro con te l'allenamento che si fanno C'è una resistenza e mangiare Solo per te l'allenamento Sono d'accordo con te l'allenamento Non cazzo sei in carattere I primi Tu faccia pure Ci si fa il primo tempo Ma che si fa Eeeh 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 E' un certo è stato da uno di come ora a te E' un buon cuore Arriva la domenica Che deve scostare la tua E' un buon cuore E' un buon cuore E' un buon cuore Ma c'è il barro a casa E' un buon cuore E' un buon cuore E' lui lui il- E' un buon cuore E' un buon cuore Muslims Viya' Non è pure Via Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.